Ha fatto tappa a Termoli il rally per l'Italia del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Ieri sera, verso le 21, il leader pentastellato è arrivato nella sala congressi di un noto hotel della città rivierasca. Ad attenderlo, incuranti del big match di Serie A, trasmesso in televisione, una nutrita e variegata platea di giovani e meno giovani in attesa di vedere e soprattutto sentire dal vivo il candidato alla guida del paese alle prossime elezioni politiche. Come un mantra, anche a Termoli Di Maio ha declinato i punti fondamentali del suo programma di governo con una particolare attenzione, nel caso di specie, per le idee in agenda per il Molise. Accanto al refrain della rinuncia ai rimborsi elettorali, del taglio agli stipendi e ai vitalizi dei parlamentari, cose che gli altri ora promettono ma che noi già facciamo, la proposta di aumentare gli incentivi per gli imprenditori tagliando IRAP ed IRPEF, un contributo a chi produce PIL per far ripartire l'economia. A seguire Di Maio, dopo aver esordito, arringando i presenti sul tema Molise, terra dimenticata e abbandonata dalla politica, ha affrontato questioni concrete e sentite in regione, dall'edilizia scolastica alla sanità alle infrastrutture viarie. L'aspetto, a nostro avviso, di maggior interesse è toccato dal candidato premier, ancora a proposito delle elezioni politiche. Non siamo un movimento chiuso, ha sottolineato. Ci siamo aperti a chiunque voglia portare un contributo ed un impegno concreto al nostro progetto. Un messaggio che può leggersi anche in discontinuità con il passato dei 5 Stelle, all'insegna del proveremo a governare anche tentando alleanze con altri partiti. Ad arricchire di contenuti la serata termolese a 5 Stelle, la pubblicazione dell'elenco dei candidati vincitori delle parlamentarie dei collegi plurinominali di Camera e Senato. Alla Camera incorsa il consigliere regionale Antonio Federico e Rosalba Testamento. Al Senato, invece, il candidato pentastellato sarà Fabrizio Ortis.